Raga non ho capito Cioè perché attaccato all'1 deve esserci il 2 Attaccato al 2 deve essere l'1 Eh ragazzi non Perché è più facile Non capisco Qua dovrebbe fare avanti e indietro Allora va bene In cosa mi dovrebbe aiutare questo Vabbè oddio Ok Che pazienza Oh Ma come funziona non ho capito Però vabbè Nel dubbio triangolini Quelli funzionano sempre Ci siamo Uno o due ragazzi non capisco Mi faccio a bloccarlo Sarà bloccato così Vediamo un po' Però sono un po' complicati sti pistoni Adesso in teoria non dovrebbe cadere E io sto a guardare i colori con la macchina rossa Ando alla bagnina rossa La macchina blu vai quella blu Invece è il contrario ragazzi Sì Allora Ho capito ma non c'era arrivato Cioè io stavo seguendo i colori A me quello l'ho insegnato a scuola Segui i colori Non è colpa mia Ho detto che funziona così Io ci ho crevuto Non so se esistono le molle qua Vabbè Stavo a guardare i colori ragazzi So che dire Non è colpa mia Tic 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 Sti uno e due Almeno nel Polybridge 2 ti fa vedere proprio il simbolo del lucchetto Che tragedia ragazzi Ponte di merda Ma che cazzo Aspettate un attimo Non devo fare Devo fare un 360 Grazie Grazie E a 1 Deve finire lì Quindi Devo fare un 360 Mamma Mi ha amassato Tirati su No Estendo un po' Ma i 200 Q qua Stanno sforando di brutto Madonna E' molto tempo Penso 10 minuti Posto Questo lo condivido Aspetta Voglio rivederlo così Questo è da condividere Sono fiero della mia opera ragazzi Renzo piano qua Si inchina Guarda che roba Guarda il coppettino finale Vai 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 Perfetto Dovete imparare soltanto Dov'è qua Condividi No no Galleria online Come ha fatto E beh perché L'ha spinta Da sotto A posto Pure una cimera Perfetto Addio Bote di merda Ma che cazzo Bote di merda E beh Come ha A posto Mi Grazie a tutti.